Hai mai pensato a quanto potere hai dentro di te per plasmare la tua realtà e realizzare i tuoi sogni più grandi? Oggi esploreremo il potenziale incredibile che tutti noi possediamo per modellare la nostra realtà e manifestare i nostri desideri più profondi. La crescita personale è un viaggio che ci permette di scoprire e utilizzare questo potere nascosto. Ogni pensiero che abbiamo, ogni emozione che proviamo, invia un'energia specifica all'universo, comunicando ciò che desideriamo creare nella nostra vita. Questa energia non è casuale, è una forza potente che l'universo rispecchia, restituendoci esperienze che corrispondono alle nostre vibrazioni interiori. Come spesso affermato da Bob Proctor, comprendere come allineare il nostro stato interiore con le esperienze che desideriamo vivere è la chiave per sbloccare le nostre capacità di manifestazione. In questo video condivideremo 12 frasi potenti che possano riprogrammare la tua mente e liberare le tue abilità di manifestazione. Queste affermazioni non solo ti aiuteranno a mantenere un atteggiamento positivo, ma ti guideranno anche verso una vita più consapevole e intenzionale. Quindi preparati a scoprire come diventare il creatore consapevole della tua esperienza di vita e a trasformare i tuoi sogni in realtà. Se hai seriamente deciso di intraprendere questo viaggio di crescita personale e sviluppo, rimani fino alla fine per scoprire tutte le 12 frasi che possono realmente cambiare la tua vita. Prima di continuare, assicurati di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per non perdere i nostri prossimi video. Ecco le 12 frasi di potere che ti aiuteranno a manifestare correttamente. I miei pensieri sono richieste all'universo. I nostri pensieri sono potenti generatori di energia che influenzano direttamente la nostra realtà. Ogni pensiero, che sia positivo o negativo, invia un segnale all'universo, agendo come una richiesta energetica per ciò che desideriamo manifestare nella nostra vita. Quando ci focalizziamo su pensieri positivi e obiettivi chiari, eleviamo le nostre vibrazioni energetiche, attraendo esperienze e circostanze favorevoli. Al contrario, pensieri negativi e preoccupazioni generano vibrazioni basse, attirando sfide e situazioni difficili. Questo principio è alla base della legge di attrazione, che afferma che simile attrae simile. Quindi, coltivare pensieri positivi non è solo una questione di atteggiamento, ma una pratica concreta di crescita personale che può trasformare profondamente la nostra realtà. Con consapevolezza e intenzionalità possiamo scegliere i nostri pensieri per creare una vita allineata con i nostri desideri più profondi. Sono un creatore o creatrice consapevole della mia esperienza di vita. Non siamo vittime delle circostanze, ma creatori consapevoli. Ogni percezione, emozione e reazione contribuisce a creare la nostra realtà. Abbracciare questo ruolo ci permette di allineare la nostra energia con le esperienze e i risultati desiderati. L'incertezza mi offre l'opportunità di scegliere di nuovo. L'incertezza è spesso vista come una fonte di stress e paura, ma in realtà può essere una straordinaria opportunità per la crescita personale. Quando ci troviamo di fronte all'incertezza, abbiamo la possibilità di rivedere le nostre scelte e prendere nuove decisioni che possano portarci verso direzioni inaspettate e positive. Essere flessibili e accogliere i cambiamenti ci permette di esplorare strade che non avevamo considerato prima. Questo atteggiamento ci aiuta a sviluppare una mente aperta e adattabile, fondamentale per creare nuove possibilità nella nostra vita. Lasciando andare le aspettative rigide, permettiamo a noi stessi di vedere le situazioni da una prospettiva più elevata, liberandoci dalle limitazioni autoimposte. In questo modo possiamo ricreare la nostra realtà in modo più consapevole e intenzionale, allineandoci con il nostro vero potenziale e con le infinite opportunità che l'universo ci offre. Abbracciare l'incertezza non significa perdere il controllo, ma piuttosto trovare nuove forme di controllo attraverso la creatività e la capacità di adattamento, diventando così i veri artefici del nostro destino. E i miei desideri stanno già manifestandosi. Vivere come se avessimo già raggiunto i nostri obiettivi allinea la nostra frequenza personale con la manifestazione desiderata, attirandola più rapidamente nella nostra realtà. Creo dalla prospettiva più elevata Creare dalla saggezza del nostro Sé superiore, connesso ad amore, gioia e abbondanza, potenzia notevolmente le nostre manifestazioni. Allineandoci con questa prospettiva, possiamo creare esperienze da uno stato di potere e consapevolezza. L'universo lavora più velocemente quando mi sento bene. Sentirsi bene internamente accelera la manifestazione dei nostri desideri. Le emozioni positive ci rendono magneti energetici che attraggono circostanze gioiose. Rendere la felicità una priorità facilita la manifestazione. Mi permetto di ricevere i miei desideri più grandi Essere pronti a ricevere i nostri desideri più grandi è essenziale. Affermare sono degno o degna dei miei sogni e visualizzare la gioia di riceverli rimuove i blocchi e allinea la nostra energia per accogliere ciò che desideriamo. Le mie frustrazioni mi mostrano dove rifocalizzare la mia energia. Le frustrazioni indicano dove dobbiamo reindirizzare la nostra energia creativa, vederle come opportunità per rifocalizzarsi su ciò che intendiamo creare e dove risiede il nostro vero potere. Forze creative infinite mi guidano verso i miei sogni. Bob Proctor sostiene che non è necessario affaticarsi eccessivamente per realizzare i nostri sogni. Egli crede che ci siano infinite forze creative e momenti di sincronicità pronte a sostenerci. Queste forze si allineano per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi quando accettiamo di affidarci al processo e di lasciare che queste energie lavorino a nostro favore. Abbraccio l'incertezza come impulso creativo della vita. L'incertezza è l'impulso creativo della vita. Abbracciarla ci apre a nuove creazioni innovative. Restiamo radicati nei nostri valori ma diamo spazio all'universo per consegnare i nostri intenti attraverso canali sorprendenti. Mi apro a ricevere molto di più di quanto sogno attualmente. Essere aperti a ricevere oltre i nostri sogni attuali segnala all'universo che accogliamo opportunità grandiose e sorprendenti. La mia presenza è sufficiente per trasformare la realtà. Essere in uno stato di quiete e allineamento interiore emette una frequenza energetica che può trasformare i modelli di realtà intorno a noi senza sforzo. Ora scrivi nei commenti qui sotto realizzo in questo istante tutto ciò che desidero. Attiva ora la legge della vibrazione. Un saluto da crescita personale e finanziaria. Ci vediamo al prossimo video.